Ragazzi iscrivetevi al canale perché a 100.000 iscritti uscirà un progetto molto speciale a cui sto lavorando da molto tempo quindi iscrivetevi e ora godetevi il video E beh ragazzi sono Gnampri e benvenuti nel mio canale Oggi come potete vedere ci sono due joystick perché c'è un video molto speciale che mi farà divertire e... no non posso dirlo L'aspite speciale abbiamo ovviamente lei la bionda più bionda del web, la più forte a calcio femminile in Italia, vero? Tophia Ottos, grazie! Ti piace? Eh, si Eh beh, non è il video che per ogni gol subito bisogna togliere un vestito? Ah si? Eh ma io aspettavo come me, pantaloni forti Ma guarda che è freddo fuori, ci sono tre gradi, bisogna coprirsi Ma la gente vuole vedere qualcosa Scusi ma vedrà, vedrà, tanto non c'hai tanti gol, sei bravo Io non ho mai toccato un joystick, non ho mai avuto una Playstation, giocavo al Nintendo quindi non sono capace Va bene e regole aggiunte adesso, se faccio gol di rovesciata e togli magari travestiti, di tacco 2, gol normale 1 Va bene E se senti te io non avevo un vestito a programmi di qualche parte E allora andiamo qua, però siccome io ovviamente so giocare a FIFA ti do un bel vantaggio Ovvero che te userai la squadra più forte di FIFA, ovvero il Manchester City, mentre io una delle più scarpe Tu prendi le donne Le donne? Prendi le donne scusate Cioè non che le donne siano più scarse No, nel senso Ricordatevi signori il calcio femminile è competitivo, le donne sanno giocare a calcio e meriterebbero uno stipendio equivalente a quello dei maschi, vero? Sì Scusate, guardate queste clip di lei che gioca Infatti lei guadagna 4 milioni più buono, sto andando Esatto Va bene, allora andiamo con il match E allora ci siamo? Siamo pronti Ecco qua Sì, ma pure Inghilterra, Manchester City, che dovrebbe essere la squadra più forte, questo FIFA Vediamo In realtà si chiama FC24 Ma infatti questa cosa non l'ho capita Non so i dettagli Una squadra esotica facciamo, ok? No, tu le donne Guarda, guarda Guarda, guarda Guarda, guarda, guarda Guarda, guarda, guarda Guarda, 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 guarda Guarda, 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 guarda Guarda, 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 guarda Guarda, 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 guarda No, cioè stanno dicendo che le donne non possono giocare con gli uomini a calcio Sono troppo scarse Ma! No, no No, no Vi faccio un reclamo dopo questa cosa FC24 è sempre amico Mi raccomando Ha fatto un aggiornamento Viviamo in inclusione uomo-donna Cioè, infatti Voglio speccare Alan con la lemma Vabbè, niente Mi piace la squadra esotica cosa scende Cercano una un po' scarca, magari Ok Bello Mi piace quella mezzastella intanto È equilibrata Così secondo me viene equilibrata Così secondo me viene equilibrata Ci siamo Oddio, c'ho l'ansia Vai Sono io Passaggio Adesso è passaggio Ok Almeno i passaggi sai fare Allora, ti ricordi Passaggio con x Cross con quadrato T con cerchio Dai, adesso basta Mi lascio il culo Sto fingendo, ragazzi In realtà Sono una professionista Allora, io in realtà Da piccolina una volta ha giocato a fifa Ma sono scivolata tutti Quindi so anche il tasto è la scivolata Ah Io non ho mai toccato Joy Sick Ah È tutta una tattica per distratti Attenzione Prova il Ah Bravo perché Una morzarella questa Oddio è vero Vai Vai Come portata la Lazio Oh Signori, la vedo piuttosto il previsto Pensavo comunque di asfaltarla Ma sei già al decimo Hehe Oh Ma quanto dura la partita? GOLL FAI GOLL Oh Stai spaccando i timpani Allora, vai 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 singa 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 Siiii subito Ma perché ma 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 l'avano cliccato per fermarlo Signorina, qui ti ricordi il titolo del video? Ho investito per ogni gol subito a FIFA All'imbarazzo della scelta Questo cappello mi sta un po' male Quindi guarda Il cappello da pescatori Bene, devi dobbiamo pettinare Già uno ce lo siamo tolto Mi sa che devo fare un bel po' di gol Ma sta giocando Vuol perdere tempo qua Non vale, hai preso più forti Non ci credo E vai, il testo Vabbè Calcio d'angolo Schema a Belen Schema a Belen Ecco la mia spalla Non ci credo Buona, è però buona Ma perché c'è il sangue per terra? Hanno il ciclo? Aiuto Non ci credo Ma era fuori, dire Come è il suo video, era fuori Non è vero Ecco il gol Ho sbagliato il tasto No, il tasto del gol non ce l'ho Mamma mia Ti giuro che ce l'ho creduto Guarda lì come salta il passerello Ci hai creduto? Ci ho creduto un po' Cioè Eccomi, io ho creduto di riuscirci con lei No Parla dell'altra Esatto Calma Io mi sento come le donne che non sanno giocare Oh oh Giocare a calcio Bello No No, sì vabbè C'è un muro a difesa Ecco No Dai Dai Ma che pippe C'è un muro a 9 a 10 Che fa? Ma non so perché esca Si vede che premo qualcosa di Oddio però adesso non vuole far farlo No, 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 no Sii, calma, era solo per distrarla E qua signorina Allora sto morendo cavolo di caldo Quindi mi fai togliere Allora io sta giacca La giacca dei fulmini della sua squadra qua E ora diciamo che il look è più Facciamo anche te giochi così Così magari faccio gol E calma, calma Qui vuole parare Oddio Madonna La pressione, arbitro Ok Buono Dai no, fermalo Buono Non ci credo Palo Gabri ha preso il palo Palo è una vita reale Palo, su Daglio, daglio Allora da piccola Oddio non aspetta lì dopo No Non ci credo Da piccola io giocavo a FIFA di Nintendo E tipo Per fermare i giocatori Perché non ero capace Facevo fallo con la difesa Al frontiere avversario Mentre la palla era in attacco Giorno funzionava però Perdevo le partite Perché prendevo troppi rossi Ma Ma Vediamoci Vediamoci Adesso comandando Alad Oddio no Sii Calma Manca 20 minuti Terzo gol Qua Signorina Cosa si può togliere Sto giocare dentro le cose Cavolo Adesso Dove qua Anche così riesco a giocare Medio Ah ecco perché l'hai riuscita a segnalare Ti sei fatta Tranquillo Oh Ah Adesso metto il prime Lo sia prime C'è una cosa Se mi fai un gol Fallo Io mi tolgo due vestiti Va bene Ma non ce li hai La porta non hai visto neanche dove il tiro Ma come l'ho fatto un tiro Che sta per ribaltare il pianeta Aiuto Si sta iniziando a impegnare veramente No No Fai gol Uuuuuh Che sparata E' che mi ricorda quello delle tue partite quest'anno Ah però poi non c'è arrivato No noi abbiamo due schemi e non facciamo speccacate Facciamo Sponerate sennò l'avversario qua Guarda io mi devo fare così Casca la terra tutti su per terra Giro, giro Vai, vai, vai Dai che buona Oddio ho fatto gol No, non fai gol No, non fai gol Toi Si Quattro E siamo a quattro Qua Doi Ma cosa ci toglie Ma questa cravatta Che ce l'hanno messo Ma questa è barra Vabbè Tolgo la felpa Cos'è tra l'altro è mia quindi Tornami il dente Me la metto io Perché ho segnato No Non erano queste le regole Scusami Ah non era Metti il vestito Però gli ho segnato No Vabbè E allora Beh almeno lì ci vorrei una maglia Maglia più corte Ovvio Non riesco a entrare qua Capolata Vai No ferma la partita Ma cos'è sto maglione Ah ecco perché avevo caldo Ma vai io No ma stanno giocando Senta di noi Ah stanno giocando Aiuto aiuto Allora manca due minuti Un altro gol non sarebbe male No 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 Sono finti vestiti No Come vedi Oh No 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 il giro si rissi ok no oh 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 fallo non ci credo non devi passarla a loro però il blu dai uomo ohhh e siamo a 5 le cose stanno un po togliendo sempre di più ah niente tolglierò sto cosa questo devo fare, porca boia oh, attenzione ma io credo che ho accettato a commentare questo video vai mi sento una battata guardiamo, guardiamo allora, signore proposta, siamo all'ottantanovesimo in 47 secondi ok, si manca 20 secondi di gioco se segno adesso, togli tutto quello che c'è da togliere beh, nel senso ok, 20 secondi mancano? si, più o meno si ma allora ma che cazzo me ne frega, vai ovvio che certo, non mica mi cago ad oggi adesso faccio una tattica, ciao ciao pensavo, ti recupero no, no, non vale no, attenzione perchè? calcio d'angolo finale no, no, non so che calcio ma te mi hai messo che comandi il mio joystick secondo me allora ultimo calcio d'angolo faccio salire il portiere come si fa? non lo so, premi in meno tutti stanno aspettando questo momento lo schema scusa schemi eh dai che buona no, 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 no mamma mia c'è il panico e allora, signori purtroppo ma perchè ci sono gli arbitri donne? ma non si sa che non sanno arbitrare allora, signori, purtroppo la sfida finisce qui 5 a 0, onesto con la squadra che avevo madonna mi hai detto quanti vestiti c'è ancora sotto? questi erano gli ultimi o? no, non ci credo ragazzi qua sotto non c'era niente vabbè io sono rimasto così almeno sono contento e allora questa sfida finisce qui se volete altri video del genere o con altre ragazze o sul campo vero ahhh chi lo sa mi raccomando sul campo vero però dai non hai speranza mi dispiace ed è uscita anche su questo canale una sfida io e lei contro Pierino e la ragazza di Pierino no, scusa com'è che mi chiamo io? la ragazza di Pierino? no, io sono Eleonora non sono la ragazza di Pierino ha un nome sono la ragazza di Pierino ma mi chiamo Eleonora io non mi chiamo Pierino mi chiamo Pierfrancesco ma questo è un altro discorso precisiamo le cose mettiamo in chiaro perchè basta eh andate a vedere quella sfida perchè chi perde farà una penitenza particolare aiaia grazie per la visione mi raccomando iscrivetevi al suo canale grazie anche ai suoi 100k io farò visto che ai miei 100k tu devi vestire da donna e fare una punta vero no, è vero ai tuoi 100k io non ti vestirai voterete cosa dovrò fare? non mi vestirò no, nel senso non ti vestirai da uomo ah, non mi vestirò da uomo che farò qualcos'altro e niente, allora iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video bye bye ciao 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 ciao